Buongiorno, sono Ciampoli Lorenzo, sono cittadino di Gallarate dalla nascita, ho 64 anni, sono appena andato in pensione, ho lavorato 42 anni in una grossa azienda locale, ho sempre fatto il progettista elettronico, mi sono messo con questa lista perché è tutta gente moderata che si sta impegnando per alcuni valori importanti per la famiglia e essendo un tecnologo cerco di dare il mio apporto a quelli che sono i progetti che riguarderanno la città di Gallarate.